Uè papà, che dici? Come stai? Bene Oggi facciamo piatto tipico italiano Oh, ok Allora, iniziamo Pizza Poi aggiungiamo spaghetti No, ma che fai? Poi aggiungiamo sugo alla bolognese No, ma ti devo denunciare Ma come fai a mettere il sugo della bolognese? E' made in Italy Piatto italiano Sì, ma non ci devi mettere gli spaghetti nella pizza Poi mettiamo formaggio a bitotti Eh no Gattugiata di parmigiano Ma che? Poi ci mettiamo foglie stracinite O fulgi stracinite Poi mettiamo melanzana parmigiana La parmigiana Poi mettiamo un po' di cotoletta Alla melianese Pronto polizia? C'è uno pazzo che vuole mettere gli spaghetti e tutte altre cose nella pizza Non è italiano sto qua Poi mettiamo Verze e patate No Con uno spicchio d'aglio E E E Despes Vamo Mettiamo Tambien Mettiamo Ok, basta È dolce È dolce È dolce No È dolce Per Tipico italiano È il più famoso del mondo Sì, ma non è la pizza Sì, nella pizza Così tutto italiano La nutella No Ed è tutto piatto tipico italiano Sì, sì Ed è buonissimo, vero papi? No Ha 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 Grazie.